Il tipo organizzato della curva Minghelli come previsto diserta per protesta la sfida con la Juve Under 23, un minuto di silenzio per ricordare il Cavalier Benito Butali. Nell'Arezzo gioca più dall'inizio così come il portiere daga al posto dello squalificato Pissardo. Belloni dietro per Foglia che dopo 4 minuti porta avanti l'Arezzo, primo gol in campionato per Foglia. L'Arezzo in vantaggio, in mezzo al campo c'è Tassi a far coppia proprio con Foglia, Lotto Amaranto trova dunque il suo primo acuto stagionale, batte così il portiere Loria. Poi la Juve in velocità, parte rapidamente Lanini che supera Baldan, l'ha bruciato letteralmente davanti a Daga, bravissimo! Si oppone così il portiere classe 2000, poi un traversone e arriva il gol. Il gol dell'1-1, tutto vano e fuori gioco di Lanini. Juve ancora in avanti, c'è Beguato, fa partire un altro traversone, a vuoto Daga e Mota Carvaio approfitta anche dell'indecisione di Luciani che protesta forse per una spinta. Il gol è buono e il terzo in campionato per il portoghese che trova l'1-1, 8 minuti, già due gol. Rivediamo il traversone, forse qui c'è una spinta su Luciani di Mota Carvaio, Daga vuoto e palla in rete. Più, tocco per Foglia, il piede caldo e non va lontano dalla porta, al dodicesimo minuto, Schanzaghezzo, Zanimacchia per la Juve under 23. Rosa parte un cross, Mota, ancora lui, palla alta questa volta, sopra la porta di Daga. Insiste la Juve, centrocampo ha molta facilità, Rosa parte un altro, cross, Daga tocca, Olivieri al volo. Tiro ribattuto e l'Arezzo si salva, qui Daga rischia tantissimo, infatti perde palla, Lanini prova a sorprenderlo e Daga rimedia. Un'altra chance per la formazione di Fabio Pecchia, poi Pecchia protesta per un fallo, secondo lui, non visto in mezzo al campo. Esce dall'area tecnica, arriva l'arbitro Angelucci di Foligno, estrae il rosso e dunque Pecchia deve lasciare il campo. Prova qui, Touret perde palla, ancora subentra Foglia e poi un tiro di Gori, il primo della sua serata, palla sul fondo. Gori gioca la sua prima gara da titolare, sul rilancio, sempre Lanini, sempre rapidissimo, entra in aria e invece di calciare, fa partire questo cross potentissimo, non la prende benissimo lì in mezzo Olivieri che era pronto appostato per calciare. Ancora un lancio in avanti da parte di Clemenza, attenzione allo scatto di Olivieri che punta Mosti, poi punta Belloni che lo mette giù, arriva l'arbitro e calcio di rigore, proprio in chiusura di primo tempo. Decisione che sembra inevitabile, rivediamo, si l'aggancia nettamente Belloni, calcio di rigore, Clemenza sinistro, niente da fare per Daga e la Juve è in vantaggio al 46esimo, Clemenza, giocatore reinventato da Pecchia in una posizione alla Pirlo, trova il gol del 2-1, giocatore fondamentale per questa Juve Under 23. C'è il gol, l'Arezzo dunque beffato in chiusura di tempo. Nella ripresa entra Rolando nell'Arezzo, Foglia è uscito più, palla proprio su Rolando che calcia alto, 9 minuti, occasione per il pari. Entrato Frabotta nella Juve Under 23, palla che esce, tiro due volte, il secondo di Olivieri, il primo era stato di Clemenza. Clemenza. Poi l'Arezzo con Rolando che con lui in campo trova più vivacità, la scuola Amaranto, supera Rosa, lo mette giù, lo aggancia nettamente al rigore, netto anche questo, rivediamolo, eh sì, lo prende proprio. E c'è dunque il calcio di rigore, non potrebbe essere neanche, batte a sorpresa Gori, sinistro Luria che spinge, e poi salva tutto Alcibiade, tutti abbracciare Luria ma anche Alcibiade ha fatto un gran salvataggio, l'Arezzo spreca la scienza della 2-2, in realtà il rigorista era Belloni, l'ha voluto tirare Gori, forse per sbloccarsi, non gli è andata bene e la Juve rimane in vantaggio dall'angolo seguente, che dire, è entrato anche lui nella ripresa, la manda sopra la traversa, sempre che dire, a servire Gori, Gori rientra su Alcibiade, tiro deviato, deviato in calcio d'angolo, l'Arezzo che crea occasioni, Juve in più in difficoltà in questa ripresa, Rolando ancora, sul fondo senza deviazioni, Belloni, poi un traversone di Mosti e qui Coccolo rischia di combinarla grossa, palla in calcio d'angolo ancora, altro traversone, qui si lamenta Belloni di una spinta, forse di Frabotta, rivediamo la parte finale, Belloni protesta, l'abito non fischia, Belloni, altro pallone, verso Chedira, controllo, tiro di Mesina, è entrato anche lui, l'abito aveva fischiato forse un primo fallo di mano, forse dello stesso Chedira, e poi c'era il secondo di Alcibiade eventualmente, Marizzo prova a insistere, da Baldan, Rolando, Rolando, evita Clemenza, Rolando, destro, Loria, dice di no ancora, novantatresimo, Juventus 23, soffre in qualche modo, poi sei di recupero, rischia qui Touré su un altro tocco di Daga, finisce qua l'abito Angelucci, fischia alla fine dopo 21 partite, Larizzo perde l'imbattibilità interna.